Amici ci sono due pesci incredibili proprio davanti a Cespugno in corrente adesso uno ha scacciato l'altro ho messo un 20 perché mi sembrano pesci grandi sarebbe bello poterlo vedere è un bel pesce sicuramente ragazzi l'ho presa guardate che cos'è un pesce gigante ragazzi veramente forse una delle marmi più grandi e grossi come questo guardate un gigante guardate la bocca meravigliosissima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti